ciao a tutti oggi vediamo come si sincronizza il gateway con smartphone e alexa allora si inserisce il cavo micro usb vedete il sys che lampeggia la lucetta rossa se non lampeggia potete inserire la moletta su set e quando inizia a lampeggiare andare sul smartphone clicca su mi box scaricabile su app gratuita in alto a destra c'è più cliccare su gateway 2.4 gigahertz scusate ho sbagliato eccolo qua e andare a cliccare sul prossimo passo vi uscirà la richiesta di inserire id e password inizia configurazione c'è da attendere un paio di secondi vedete che la mi box continua comunque a lampeggiare adesso si è fermato quando si è fermato significa che il dispositivo si sta configurando allo smartphone quando vedete link verde fisso vuol dire che si è già sincronizzato con lo smartphone e potete vedere che la configurazione da già eseguito e amazon ha persino già trovato ecco qua 2.4 gigahertz che il nome del dispositivo potete modificarlo tranquillamente chiamarlo con con altro nome aspettate un attimino ecco qua andiamo a modificarlo ecco qua possiamo metterci un nome così chiamiamolo cucina andiamo a sincronizzare si va a scegliere telecomando potete vedere il tipo di telecomando compatibile con led sulla scatola si sceglie il telecomando idoneo si va su link e un link e si e poi c'è la zona la lampadina lo si accende si preme sul link ed ecco qua la lampadina lampeggia tre volte vuol dire che si sta già sincronizzando con lo smartphone in questo caso col modulo possiamo spegnerla accenderla cambiare i colori e andare sul bianco dimerare e adesso vediamo un attimino scusate ok andiamo a vedere un attimo la sincronizzazione su alexa come vi ho detto prima era già stato trovato l'app su dispositivo alexa vedete alexa l'ho dovuto azzittire un attimino perché sennò continuava a rispondermi sull'app alexa potete già accendere e spegnere i dispositivi abbassare la luminosità ok lo spegniamo accendiamo alexa e proviamo alexa spegni cucina ecco qua come vedete si è sincronizzato semplicemente ok se poi non dovesse sincronizzarsi in automatico potete andare su dispositivi in alto a destra trovate più aggiunge dispositivo andate in basso cede altro e trovate e trova dispositivi importante è dovete scaricare primo lo skill di mi light sullo skill di amazon qui ci sono un paio di ski che potete vedere o la mi light smart o la mi light cloud tutto qua è abbastanza semplice grazie mille